Da metà ottobre che sono in pista e devo dire che è un'occasione molto gradevole, molto piacevole, c'è molto affetto, c'è voglia di sfogarsi anche, c'è voglia di chiedere, di sapere, di scoprire, di criticare, però vedo molto atteggiamento positivo, molto atteggiamento costruttivo, cioè di provare a scrivere un'altra pagina di Bologna, con tutte le preoccupazioni, le ansie e poi ciascuno giustamente vede quelle più vicino, quindi si va da considerazioni molto locali, uno dice, ah ma c'è il problema lì sotto, ci sono le scritte nei muri, che è normale, è giusto che sia così, questo per quanto riguarda la parte in mezzo alle persone, che è la parte più, che a me piace di più, poi ovviamente ci sono anche molti altri incontri con le associazioni, con le organizzazioni sindacali, con i partiti, con cose più organizzate, più strutturate, però fino adesso e penso sarà così anche dopo, la parte più bella, forse perché non ero abituato molto a farlo per il mestiere che ho fatto in tutti questi anni, è stare in mezzo alla gente, credo che consenta di capire al meglio che cosa preoccupa, quali sono le ansie, le speranze e anche il senso di destino comune, questa è una cosa che mi tocca molto, di una città che sta riscoprendo secondo me un grandissimo senso di orgoglio, di senso di appartenenza a una comunità e ovviamente tocca a me il compito di cercare di interpretarlo e spero di essere all'altezza.